Sapete, tante volte la vittoria è nell'arresa, è una logica strana. Di solito vince chi domina, chi controlla, chi schiaccia gli altri. Ma Gesù fin dall'origine del suo mandato cominciò a dire, chi cercherà di salvare la sua vita, la perderà. O chi ama la sua vita, la perde, ma chi la perderà per amore mio e del Vangelo, la troverà. Non sta parlando di un'automortificazione, non sta parlando di una repressione, di una imposizione, ma sta parlando di una motivazione nuova. Infatti, chi la perderà per amore, spinto dall'amore, spinto, costretto dall'amore. E in questo momento ancora lo Spirito Santo vuole sottolineare che le vere scelte nella tua vita non saranno quelle spinte dal senso di dovere semplicemente, spinte dal senso di responsabilità, spinte dal senso di colpa, spinte dalla paura. Ma le vere scelte saranno quelle in cui l'amore ti farà volontario e diventerà operante. Come abbiamo ascoltato questa mattina, un amore a fatti e a verità, un amore non astratto, ma che si dà. Questo è il centro del cristianesimo. E mentre ci accingiamo a guardare insieme il tema dell'ultima parte, prima delle conclusioni, stasera avremo il pastore Giovanni e credo che Dio ci darà veramente qualcosa di particolare, abbiamo bisogno di comprendere e di essere grati a Dio, come dice la scrittura, che ci conduce sempre in trionfo in Cristo. Amén. Ma forse la nostra idea di trionfo tante volte è un po' diversa da quella di Dio. La nostra idea di vittoria è un po' diversa da quella di Dio. La nostra idea di potenza è un po' diversa da quella di Dio. Ma siamo grati a Dio che lo Spirito Santo sta lavorando, anche in questa settimana, sta lavorando nella tua, nella mia vita, per portarci a una rivelazione di quelle parole che sono spirito e vita e non interpretazione di quello che noi pensiamo essere gloria, potenza, vita. siamo troppo condizionati, fratelli e sorelle, da modelli umani e abbiamo bisogno di una rivelazione nuova dello Spirito Santo per poter andare al centro della parola di Dio. Tante volte mettendosi davanti a Dio è come se finissero le parole mettendosi davanti a Dio è come se viene Sela e non il silenzio dell'imbarazzo non il silenzio del disagio ma il silenzio di quando siamo esposti alla presenza all'amore alla grazia di Dio e io ringrazio il Signore proprio perché la terapia che Lui ha operato nella mia vita è stata una terapia che ha spento la mia visione e ha cominciato a illuminare qualche cosa che avevo dentro qualcosa che avevo ricevuto la vita di Cristo ma che non valorizzavo sufficientemente sì, ho ricevuto salvezza ho ricevuto la grazia ho ricevuto sono seduto nei luoghi celesti con Cristo Cristo si è seduto nei luoghi terrestri con me perché è interscambievole ma in qualche modo la mia sconfitta era collegata sempre a combattere a livello umano a cercare di vincere attraverso la mia intelligenza la mia comprensione delle cose e Dio ha dovuto fare un lavoro profondo e ringrazio Dio pure per aver incontrato il pastore Giovanni la comunità la Chiesa della Riconciliazione perché lì è come se Dio avesse completato un'altra parte di questo lavoro profondo che Lui non può fare solamente direttamente nella tua vita ma ha bisogno di fare attraverso persone che hanno realizzato delle cose che gli permettono di essere discepolatori padri sapete nel Salmo 119 verso 160 dice la somma della tua parola è verità e sapete io non sono molto un fan della matematica sì le addizioni ancora ancora le so fare le divisioni però poi se andiamo a qualcosa di più complesso mi perdo ma all'inizio il mio approccio con la parola di Dio è stato molto cerebrale ho cominciato a cercare di fare quadrare ho cominciato a studiare in una maniera estrema però facevo sempre la somma e il risultato non mi veniva o quando mi veniva un risultato lo confrontavo con la somma degli altri e non corrispondeva e tante volte sembra quasi che ho perso fiducia nella parola di Dio ma non mi rendevo conto che questa perdita di fiducia era legata al fatto che io credevo più nella mia capacità di interpretare sì sempre attraverso lo spirito santo però però il mio cervello questo è stato il dramma della mia vita quello di fare passare Dio attraverso i miei pensieri i miei progetti le mie frustrazioni le mie paure figuratevi io ero una persona molto tetra tenebrosa non avevo gioia e non la volevo neanche mi sembrava qualcosa solo per gli stupidi solo uno stupido e un superficiale può gioire in un mondo così assurdo come il nostro e Dio in qualche modo pur essendo gioia era come se rifiutassi questo aspetto per cui la gioia del Signore è la mia forza no io ero tetro tenebroso chi mi ha conosciuto un po' di anni fa me ne stavo lì appena vedevo un credente che scherzava questo ha lo spirito di buffoneria appena vedevo qualcuno che ironizzava la mia serietà mi imponeva quasi di giudicarlo ma era Dio che mi stava facendo fare quel giudizio o era la mia mente che stava distorcendo la parola di Dio allora troverete che tante persone intorno a noi anche non volendolo costruiscono dei modelli basati sulla loro esperienza sulla loro idea di potenza di gloria di vittoria e tante volte Dio per poter poi trasformare i loro modelli ha bisogno di fare sì che la tempesta infuri nella loro vita ho visto tante persone anche pastori che prima si facevano tagliare la testa che Dio per forza deve guarire e finalmente sono stati guariti quando sono diventati malati è incredibile sembra un paradosso finalmente quando hanno sperimentato anche loro l'essere umani hanno cambiato hanno compreso hanno fatto una somma che non dava più quel risultato evidentemente si sono confusi perché ce ne sono altri che nonostante sono stati malati ce n'erano alcuni pure che persino quando stavano male si andavano a operare in incognito perché non si sapesse che loro che predicavano sulla guarigione a tutti i costi potessero avere delle malattie quindi cercavano proprio una via sottile per io non sto parlando di questi ma quelli sinceri a un certo punto hanno visto che il conto non quadrava più quella immagine che si erano fatti della parola di Dio non era così chiara e questo capite bene non vuole essere un parlare a sfavore della potenza del Dio che guarisce perché il nostro Dio guarisce è l'Eterno che guarisce ma attenzione sembra quasi strano io mi trovo non solo forse per il mio tipo di lavoro e di impegno mi trovo più con delle persone che hanno fatto già un'esperienza con Dio e tante volte mi sembra strano ma vedo che il ministerio di guarigione è più forte e potente nel primo approccio con il pagano con l'incredulo Dio conferma la sua parola con i segni che la accompagnano ed è meraviglioso ed è bello vedere persone che proprio per la grazia di Dio arrivano alla prima riunione dove non hanno mai sentito parlare di Gesù e Dio le guarisce magari poi il credente da 5-6 anni guarda ma come io sono 6 anni che prego signore io sono 6 anni che frequento la chiesa vengo a timbrare il cartellino arriva quello ed è guarito e io continuo invece a credere a decretare a dichiarare a proclamare perché poi abbiamo trovato tanti sistemi in cui quasi quasi dobbiamo costringere Dio a fare quello che diciamo noi Dio tu l'hai detto tu l'hai detto la somma della tua parola è verità e c'è stato un periodo in cui mi sono confuso come mi confondevo in matematica non riuscivo più a fare quadrare la parola di Dio e a quel punto piano piano lo Spirito Santo mi ha guidato a comprendere che la somma della parola di Dio è Gesù chi solo questo lo vorrebbe dire ma come io mi sono scervellato ho fatto viaggi incredibili per fare quadrare tutti i versetti ci sono alcuni che hanno un approccio alla Bibbia come se fosse un'equazione riescono a fare secondo loro quadrare tutto senza capire che questa capacità è armonia è una realtà spirituale e se tu la forzi qualcuno diceva che un versetto un verso fuori dal contesto diventa un pretesto se tu la forzi la distorci e tanti oggi è come se non capissero neanche che c'è una rivelazione progressiva parlano del Nuovo Testamento come parlano dei Vangeli come parlano del Vecchio Testamento come se fosse tutta la stessa cosa senza capire che tutto è in una linea di rivelazione e alla Bibbia purtroppo possiamo fare dire tutto è il contrario di tutto e piano piano lo Spirito Santo nelle mie tempeste anche di confusione spirituale nelle mie tempeste di paura perché sapete oggi quando si predica su Dio e si dà una certezza assoluta è vero la salvezza è un dono alleluia gloria a Dio ma quando poi si dà un codice troppo stretto di come Dio devo operare all'inizio le persone sono molto rassicurate perché tutti vorrebbero sapere come funziona metti questo qua ammacca questo bottone premi questo versetto e ti esce poi quando un poco vedi che premi là metti l'altro ammacchi cominci a dare colpi sulla macchina che non ti vuole dare la Coca Cola perché ma io ho messo il gettone ma io ho messo la cosa giusta ma io ho fatto la cosa giusta e cominci a protestare contro chi ha messo quella macchina là te la prendi col creatore solamente perché sei stato guidato quasi a pensare che è una cosa matematica è una cosa automatica e lì poi a un certo punto hai bisogno di maturare di comprendere di acquisire una visione più grande hai bisogno di capire che la somma di tutta la barola è verità è uno solo è la via la verità è la vita alleluia che bello quando ho cominciato a scoprire questo ed è stato graduale il primo passo è stato non capisco non capisco ma come uno che ha fatto della chiarezza della lucidità il suo cavallo di battaglio non capisco ma mi fido di te signore e non so se questa mattina c'è qualcuno che ha bisogno veramente di fare questo passaggio perché continua a cercare di capire per avere sicurezza ora Dio non è che è contrario al fatto che tu desideri capire bene la sua parola però ti dice ragazzi c'è la mia parola è spirito e vita la tua testa è monnizza c'è nel senso non voglio non voglio offendere ma come a dire è molto presuntuoso in due chili e cinquecento di cellule cerebrali avere la presunzione di capire Dio io l'ho avuta e alla fine ho capito di non capire però nel momento in cui ho capito di non capire piuttosto che trovare qualcuno che avesse una chiarezza maggiore lo spirito santo mi ha guidato a scoprire Cristo di più in me speranza di gloria lo spirito santo mi ha condotto a realizzare che veramente esisteva una dimensione spirituale perché tante volte noi ci facciamo forti più della nostra comprensione quello che capiamo diventa più importante della realtà spirituale tante volte nella preghiera è pure così io incontro tante persone che dicono ma io prego due ore al giorno perché Dio non mi risponde ma Dio mica ti risponde perché tu gli dai due chili di preghiera allora ti da due chili di benedizione la preghiera è forte perché è consapevolezza di un rapporto ma se tu preghi facendo un lavoro sforzandoci cercando di pensare che Dio si piegherà con la tua preghiera e tante persone incontro tanti credenti tra virgolette consacrati che a un certo punto mi dicono basta non prego più perché io ho pregato 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 e sono stato sempre peggio e io timidamente gli dico ma è possibile che tu stai cercando la soluzione su un piano diverso da quello su cui Dio te la vuole dare è possibile che tu stai cercando una soluzione che cambi tutto tranne che te stesso e devo dire che la maggioranza poi quando sono un po' più sinceri dicono è vero è vero perché in qualche modo come se mi fosse stato insegnato che la preghiera cambia tutto e allora lì devo spiegare ma hai un sottile sospetto che a Dio non interessa cambiare la conformazione geografica del spostando questo monte di là monti di suocere che vanno a buttarsi nel bar ma è cambiare la prospettiva della tua vita farti scoprire che quello che conta è quello che hai dentro e devo dire che in questo processo che Dio ha fatto di farmi capire che la somma della sua parola è verità per cui purtroppo quando noi enfatizziamo da una parte o enfatizziamo dall'altra tante volte rischiamo di diventare fanatici e di dover incasellare tutto in quel modello la somma è Gesù e questo già ha cominciato a funzionare nella mia vita ma non era sufficiente come ho testimoniato uno di questi giorni per farmi accorgere di Gesù Dio ha dovuto farmi quasi morire io dico Dio ma lì non è ha ma ha permesso ha permesso che tutta la mia forza umana finisse e normalmente quando la nostra forza umana finisce sembra che la tempesta abbia fatto il suo decorso ti ha portato alla depressione più estrema ti ha portato all'attacco di panico ti ha portato alla confusione totale ti ha portato nel deserto ti ha portato al fallimento totale ma la cosa incredibile è che il fallimento totale umano spesso è preludio della scoperta che la realtà spirituale è a prescindere da quanto capiamo da quanto ci emozioniamo da quanto abbiamo teorizzato da quanto abbiamo sottolineato la nostra teologia ed è incredibile come sono stato resettato come si fa alt control canci nel computer nel momento in cui proprio ero completamente più di là che di qua è come se in quel momento quello che avevo un po' intuito quello che avevo immaginato ma non sperimentato è diventato chiaro come a dire una vita nuova è dentro di te io sono dentro di te smettila di seguire le tue immagini smetti di costruirti le tue immagini io sono reale solo che appartengo a una realtà diversa da quella tua o da quella dove tanti di noi cercano di costruirsi perché la cosa grave non è semplicemente che tante persone restino nel deserto il problema è che che poi si costruiscono delle case nel deserto senza arrivare alla terra promessa interiore voglio leggere un versetto che un po' è la sintesi e lo parafraseremo lo parafraseremo perché ricordate per me poi nel corso del cammino è come se Dio mi avesse fatto capire che dobbiamo leggere la parola di Dio nella progressiva rivelazione quindi quello che leggiamo nel Vangelo sì ha a che fare con una dimensione profetica persino nel Vecchio Testamento c'è una dimensione profetica che parla di Cristo ma ancora non c'è la realizzazione del progetto perfetto che passa dall'ombra alla realtà per cui anche io ho fatto spesso quell'osservazione il Padre Nostro nel Vangelo non è quello che poi sarà dopo perché il Padre Nostro dice se non vi perdonate io non vi perdono ma la rivelazione dopo la grazia di Dio dice perdonandovi come siete stati perdonati nel senso che avete bisogno di comprendere l'amore e il perdono di Dio per poterlo estendere agli altri se non comprendete come Dio vi ama non riuscirete a esprimere la sua misericordia direte ti perdono però ed è quella parabola molto conosciuta delle due case leggiamo in Matteo capitolo 7 verso 24 perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia la pioggia è caduta sono venuti torrenti i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia e così leggiamo anche il verso successivo che esprime la condizione diversa alla costruzione avveduta di una forza di una sicurezza e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo incosciente stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia la pioggia è caduta sono venuti i torrenti i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande e poi la scrittura dice che quando Gesù faceva questi discorsi la folla si stupiva del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che aveva autorità e non come i loro scribbi che dicevano tutto e contrario di tutto Gesù era l'unico che poteva parlare della dimensione spirituale con piena cognizione di causa ecco perché era attendibile anche se poi incomprensibile perché lui parlava un linguaggio che era spirito gli altri capivano lucciole perlanderne lui parlava del pane e lui ci si sono dimenticati di comprare il pane loro pensavano a mangiare quindi ancora e così via lui parlava di tante cose e i suoi discepoli decodificavano in altre maniere tanto è vero che se non fosse venuto lo spirito santo noi non avremmo capito niente pur avendo i libri di storia su Gesù come ancora tante persone non avendo comunione con lo spirito santo alla fine giudicano Gesù dal punto di vista storico dal punto di vista culturale da tutti i punti di vista ma nessuno può dire Gesù è il signore se non attraverso una rivelazione dello spirito ringrazia Dio che c'è stata questa rivelazione della tua vita e che il tuo dire Gesù non è Gesù Gesù come quando vedi un topo quando succede ma è Gesù Gesù il Signore Gesù il Capo Supremo di questo corpo meraviglioso io non so come fa a vederlo meraviglioso che è la Chiesa sul quale non potranno prevalere le forze dell'Ade se vediamolo un attimo perché questo centrerà la nostra meditazione di questa mattina dobbiamo assolutamente trasportare questa affermazione di Gesù alla dimensione post sacrificio alla dimensione dove la roccia non è più qualcosa di esterno la roccia stessa su cui Mosè poi batteva o altri erano prefigurazioni di Cristo la roccia la pietra che gli edificatori hanno scartato e che è diventata la pietra angolare la roccia il fondamento su cui la Chiesa ha il senso dell'esistenza ma se comprendiamo per la nostra vita e vogliamo trovare una via di uscita nelle tempeste e vogliamo soprattutto fare sì che la tempesta non solo non ci distrugga ma come abbiamo detto in questi giorni possiamo veramente beneficiare perché nella tempesta scopriamo ancora di più gli equilibri veri scopriamo ancora di più le soluzioni di Dio nella tempesta è come se si distruggono tutte quelle cose che non sono resistenti all'azione del diavolo persino una persona data in man di Satana dice la scrittura affinché lo spirito sia salvo è come dire che è persino il violento terremoto che si può abbattere su una persona che se lo chiama perché in quel caso non è Paolo che dice tempesta abbattiti su di lui ma è semplicemente il male che ti sta colpendo possa fare il suo decorso visto che tu lo vuoi però neanche questa tempesta tremenda che autorizziamo tante volte nella nostra vita ha il potere di distruggere la roccia l'opera meravigliosa che Dio ha fatto in te però questo non ti autorizza ad essere depresso dice ma tanto anche se sono depresso Dio mi ama lo stesso ok Dio ti ama lo stesso non ti manderà all'inferno sei sempre salvato ma certamente non è qualcosa di bello vivere la tua vita tormentandoti e facendo tormentare le persone che ti vogliono bene perché vedendoti così ovviamente non si possono per niente saltare quindi comprendiamo che ascoltare le mie parole e metterle in pratica qual è l'opera maggiore che dovevano credere qual è l'opera che crediate che crediate quindi ascoltare le parole nella traduzione neotestamentaria diventa non solo ricevere questa vita nuova ricevere Cristo ma scoprirne tutte le implicazioni perché come vi ho detto poco fa io avevo ricevuto Cristo però in realtà mi appoggiavo sempre sulle mie capacità sulla mia comprensione sulla mia interpretazione e non avevo mai sperimentato questo miracolo che nella debolezza si manifestasse la sua potenza quando sono debole sono forte ma com'è possibile quando sono debole io sono debole mamma mia sono distrutto non esisto più Dio vuole farti scoprire in una maniera nuova che non c'è nessuna tempesta che sia determinata da te che sia permessa da Dio che sia generata da Dio abbiamo visto tutte le tipologie di tempesta in ogni caso il desiderio di Dio non è quello di distruggerti il desiderio del male è quello di distruggerti ma abbiamo detto in questi giorni che senza volerlo attaccando i lati più vulnerabili della tua vita se tu vuoi lui fa un servizio senza rendersene conto perché tu possa poi veramente fortificare fortificare quelle aree dove lui ha più accesso ora viene il principe di questo mondo egli non ha nulla in me e non può in nulla in me mentre se arriva nella tua vita e ha un aggancio in te e può in te tu potresti dire mamma mia come mi sono rivelato fragile in questa area ma piuttosto che lamentarti commiserarti oh sono stato usato dal diavolo oh non dovevo farlo oh qua potresti dire voglio fortificare questa area della mia anima proprio perché il diavolo non abbia più accesso con le sue tempeste sia tempeste che mi distruggono sia tempeste che mi attirano che sappiamo che il diavolo non viene solo con tempeste che ti vogliono distruggere ma ti vogliono distruggere facendoti inseguire i miraggi le tempeste apparentemente belle positive i trionfi e quindi questa mattina vogliamo in marina molto semplice capire che questa affermazione di Gesù si può tradurre e dire chi scopre questa materia nuova chi scopre questi frutti dello spirito pace amore pazienza chiaramente vive una stabilità perché voi pensate che le cose che Dio ha messo in voi sono deteriorabili voi pensate che la vita nuova che Dio ha messo in voi è così relativa dopo quell'esperienza tremenda che mi vedeva mezzo morto ho cominciato a capire come certe persone quando stavano morendo erano molto più comunicative spiritualmente perché perché tutta la loro sicurezza era finita e a quel punto emergeva in maniera quasi spontanea la vita di Cristo ci sono persone noi abbiamo visto tante persone che hanno affrontato gli ultimi momenti della vita quasi essendo trasfigurate cioè come dire sono migliorate perché perché mano a mano che la vita se ne andava è come se emergesse di più quella vita che era già dentro di loro abbiamo visto Cristo mi ricordo mi ricordo anche la mamma del pastore Interlandi mamma mia negli ultimi tempi proprio io l'ho visto una volta era come se emettesse una luce che era già dentro di lei ma è come se semplicemente la morte avesse cominciato a dare una evidenziazione più grande a questa vita e questo è importante che lo capiamo perché vogliamo essere avveduti vogliamo usare materiali che sono made in heaven cioè costruiti da Dio fratelli se tu stai usando qualcosa che è costruita da Dio l'esame viene la tempesta viene ma la casa costruita con materiali celesti permettetemi questo termine può resistere può abbattersi la pioggia i torrenti i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa sei stato tempestato da un sacco di cose ma il miracolo più grande e qui Gesù ce lo sottolinea che lì dove tu hai ricevuto la vita di Cristo lì dove tu hai ricevuto veramente qualcosa di indistruttibile di invulnerabile ammesso che tutti i cambiamenti atmosferici distruggono cercano di distruggere la tua vita tu non crollerai che non significa tu non morirai ecco perché qualcuno si estende si allarga quasi pensando che siamo immortali no non significa tu avrai sempre vittoria sulla circostanza ma avrai vittoria nella circostanza avrai vittoria sia che guarisci sia che non guarisci fisicamente e prima o poi una brutta notizia dovremmo morire anche noi ma questo è fondamentale il comprendere cosa Dio sta cercando di farti scoprire come soluzione per le tue tempeste ci sono tante teorie che vorrebbero annullare il fatto che il cristiano possa vivere la fragilità ma come Paolo sembra quasi che se ne andava a cercare la fragilità proprio perché non è perché era masochista ma perché scopriva che nella difficoltà nelle persecuzioni nelle situazioni difficili ancora di più poteva scoprire che la sua risorsa non era il suo portafoglio non era il suo conto in banca non era il numero di membri della sua chiesa apostolo Paolo ma sei un fallito nella prima tua difesa nessuno si è trovato al tuo fianco ma che razza di apostolo vuol dire neanche un cane hai trovato che ti difendesse non sia loro imputato ma che genere di apostolato è questo è l'apostolato dove Paolo aveva compreso veramente cos'era potenza e questa mattina Dio vuole farcelo comprendere in una maniera nuova qual è l'atto più potente che Dio ha compiuto il sacrificio di Gesù questo è l'atto più potente e mentre molti cercavano sapienza mentre i giudei chiedevano miracoli la predicazione di Paolo era Cristo potenza sapienza e ancora oggi tante persone chiedono sapienza devo capire devo arrivare alla profonda teologia così sottile che divento ateo e oggi molti teologi sono così addentrati nello spiegare la parola di Dio che alla fine ne perdono l'essenza sono così pieni della mappa di Dio che non scoprono più il tesoro perché perché questo tesoro è per i semplici per i piccoli oppure dall'altra parte ci sono quelli che chiedono miracoli 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 e io non sto parlando semplicemente dei miracoli bugiardi bugiardi perché vengono da una fonte negativa perché voi sapete che anche il diavolo è un esperto in miracoli e quando a noi non interessa la sorgente dell'energia ma ci interessa il risultato alla fine non ci interessa più chi ce lo dà come dire guaritemi mio figlio non mi importa se è uno stregone se è un guru non mi importa cos'è e oggi le persone sono sempre più indirizzate a soluzioni che danno apparentemente la vita ma che negano la vera vita ma purtroppo anche in ambito cristiano tante persone come se hanno pensato che Dio è semplicemente un dispensatore di miracoli e vanno a tutte queste crociate con grandi sogni con grandi presupposti e poi se ne tornano indietro magari ci sono sempre quelli che sono guariti però non possiamo esprimere come se la potenza più grande fosse in questa realtà perché ci sbaglieremmo anche la scrittura subito ci sconfesserebbe dicendo che tutti i carismi tutti i doni spirituali sono meravigliosi sono mezzi che Dio ci ha dato per servirci gli uni gli altri è bello che impariamo a profetizzare ad essere usati da Dio in parole di conoscenza in doni di guarigione in miracoli di fede è bellissimo ma questo sottoposto al desiderio profondo di amore che abbiamo per gli altri nel desiderio di servirli non nel desiderio di mostrare una potenza più grande perché la potenza più grande che puoi mostrare è quando ami fino alla fine e io sono convinto ci sono stati grandi uomini di Dio che hanno avuto anche delle rivelazioni più o meno credibili diciamo più o meno sono stati perseguitati ma che hanno visto in realtà che molte persone che sembravano grandissime ministeri impressionanti quindi alla fine lì nella dimensione del giudizio retributivo di Dio pur con carismi così estremi non erano allo stesso livello di persone che hanno vissuto forse nascoste ma che hanno amato hanno amato hanno amato più di questi ministeri hanno amato hanno amato ci alziamo in piedi vittoria su ogni tipo di tempesta sapete la tempesta ha potere perché tocca dicevamo in questi giorni la dimensione fisica la dimensione emozionale e se tu stai vivendo semplicemente come un corpo fisico o come un'anima non come un animale sei estremamente vulnerabile ad ogni tipo di tempesta lo stesso appostolo Paolo spesso diceva vorrei che voi foste senza preoccupazioni e che usaste questo mondo come se non lo usasse come se non lo usaste che compraste senza possedere che abbiate moglie come se non l'avessi il come se non che non significa ritirarsi in un posto isolato ma significa stare attenti a non investire tutto sulla dimensione fisica o sulla dimensione affettiva perché lì sicuramente cominceranno i più grossi conflitti abbiamo detto che le tempeste più grandi sono quelle relazionali oggi ci sono persone che si amano così amano così tanto che si ammazzano amore criminali la cronaca è densa di questi episodi ma come lo amava così tanto sì lo amava così tanto che l'ha fatto fuori per essere un'eternità forse anche all'inferno e questo è drammatico perché nessuno forse gli ha parlato di un amore più grande e ovviamente il sentimento umano è quello che si idealizza più di ogni altra cosa se non si conosce Dio se non si conosce il suo amore l'amore umano bellissimo di grande veramente espressione tipo del rapporto tra Cristo e la Chiesa ma è umano e nasce da un amore più grande che Dio è ansioso che tu conosca perché quella è la terapia quella è la terapia per il tuo male per la tua tempesta questo amore che coglierai dove lo coglierai alcuni dicono Dio se tu mi ami dimostramelo io te l'ho dimostrato solo che tu non stai cercando nel posto dove io ho messo il frutto del mio amore del mio sacrificio supremo tu ti stai guardando intorno tu stai cercando me semplicemente per vivere meglio e io capisco i tuoi bisogni ma il miglior vissuto io te l'ho messo dentro Cristo in te che tu lo scopra questa mattina che tu lo valorizzi che tu possa veramente scoprire come dice l'Apostolo Paolo e concludo con questo versetto chi ci separerà dall'amore da quell'amore perfetto che è capace di esorcizzare la paura che poi è stata elaborata in tante maniere sapete tante volte noi vorremmo cambiare le maniere con cui la paura è stata elaborata vorremmo superare le conseguenze della paura ma Dio lo sa che alla base c'è la paura e vuole guarire la tua paura di base non vuole guarire l'ultimo effetto l'ultima catena di questi anelli chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà forse la tribolazione quante tribolazioni quanti attacchi quante tempeste si sono abbattute sulla tua vita non hai visto più niente sarà forse l'angoscia anche l'angoscia buona l'ansia di Paolo per le chiese era un'angoscia buona era il desiderio di un padre come padri lo comprendiamo vogliamo il meglio per i nostri figli e quando li vediamo prendere direzioni strane ci tormentiamo desideriamo soffriamo e nella chiesa si crea una sorta di paternità per cui veramente l'apostolo Paolo soffriva 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 forse sarà la persecuzione ah no no ma io io credo che avendo fede non sarò perseguitato non lo puoi dire non lo puoi stabilire la persecuzione in molte aree della scrittura è molto chiaro che insieme alla benedizione alla presenza di Dio avrai l'opposizione del mondo hanno antagonizzato Gesù e se tu sei di Gesù mi sembra strano che tutti potranno parlare sempre bene di te ci sarà una persecuzione forse non sarà dallo Stato perché siamo in una nazione dove fino ad ora perché mi sa che piano piano la libertà ci sta essendo tolta ma forse la persecuzione avverrà da un tuo familiare da una persona da cui non te l'aspetti ma questo potrà separarti la fame la nudità forse queste cose potranno separarti no no signore tu hai promesso che devo mangiare per forza non è possibile ma sapete che anche dei credenti oggi stanno morendo di fame in certe nazioni in certi posti ma è perché non hanno fede o perché chi ha avuto di più non capisce l'importanza della condivisione tante volte pensiamo con questo discorso della fede se tu non hai la fede mi dispiace puoi morire o hai fede o muori no la fede è una provvidenza corporativa se Dio ti ha dato di più è perché tu sia sensibile ai problemi degli altri e non gli dici arrangiti con la tua fede se non ce la fai mi dispiace l'amore supera la fede fratelli e nessuno ci può superare la fame la nudità il pericolo la spada come è scritto per amore di te per amore tuo siamo messi a morte tutto il giorno siamo considerati come pecore da macello abbiamo citato quel passo dove il primato apostolico è diventare la spazzatura del mondo bella vocazione quelli più in crisi più in difficoltà quelli che comprendono più il cuore di Dio e quindi soffrono più degli altri perché non vedono più secondo semplicemente ah mi hai pestato i piedi io ho notato prima che quando qualcuno mi pestava i piedi la reazione era più forte come hai pestato i piedi a me come hai pestato i piedi a me hai fatto male a me ma piano piano nel corso del tempo è come se conoscendo la compassione la misericordia di Dio quando ho ricevuto un male ho cominciato a soffrire in una maniera diversa perché ho sentito il male di quelle persone come qualcosa che faceva male a Dio più che a me ma perché sono diventato invulnerabile no perché stanno prevalendo come Dio vuole che prevalgano nella tua vita i sentimenti di Cristo ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori Paolo ma come solo abbandonato persecuzioni nudità falsi fratelli come fai come hai il coraggio di dire che sei vittorioso Paolo aveva acquisito il vero senso della vittoria prima prima sembrava più vittorioso quando i cristiani li faceva a pezzi mi zica oggi ne ho fatto a pezzi cento mi zica vittoria magari si segnava tutte le tacche dei cristiani che eliminava nel nome della religione nel nome di Dio ma poi scoprì che la vittoria era diversa ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati ci ama e ci amirà e poi conclude e concludo anch'io infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di dio che in cristo gesù nostro signore questa è la terapia più grande delle tue tempeste scoprire che niente nessuno ti potrà separare tu ti puoi separare se non credi che questo ha il potere di sanarti e se continui a dire signore se mi ami cambia quello se mi ami guariscimi se mi ami l'effetto dell'amore di dio è molto di più che prolungare di due tre anni la tua vita fisica è molto di più ed è bene che ce ne rendiamo conto questa mattina per poter essere più che vincitori in virtù di lui che ci amati preghiamo signore ci rendiamo conto come le nostre esperienze le nostre immagini spesso ci abbiano condizionato nel distorcere la tua parola al nostro uso e consumo abbiamo cercato di fare quadrare di fare somme per dare dei risultati che poi sono risultati fanatismi sono risultati modelli estremi sono risultati non sempre delle cose che hanno fatto bene agli altri seppur l'abbiamo spacciata per la tua parola ma vogliamo questa mattina capire che il valore della tua parola è collegato al fatto che la parola vivente è in noi e che questa parola meravigliosa che ci hai lasciato scritta può illuminare se ci crediamo la parola vivente in noi può attivarci come abbiamo sentito questa mattina può attivarci a muoverci come cristo si muoveva sensibile con la massima coscienza della gioia ma del dolore come una chioccia che avrebbe voluto mettere sotto le proprie ali che avrebbe voluto che gli altri si accorgessero del progetto darci veramente di poter vivere questa compassione che ci porti a piangere per le persone disperate ma nello stesso tempo attirare attirare a manifestare il tuo messaggio la tua potenza la potenza del regno di dio con guarigioni liberazioni ma poi anche con una capacità di guidare quelli che ricevono te alla comprensione del vero progetto che tu hai che non è quello di farci vivere bene su questa terra ma è quello di farci vivere bene in funzione di un'economia eterna dove l'amore regnerà per sempre per ora dacci di viverlo qua di crescere grazie padre nel nome di gesù amen 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 grazie 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 grazie